Andiamo a vedere nel dettaglio le funzioni del sindaco o della sindaca, in particolare come si vede in questa slide le funzioni del sindaco possono essere raggruppate in tre grandi tipologie, abbiamo delle funzioni di indirizzo politico, delle funzioni di indirizzo amministrativo e delle funzioni in qualità di ufficiale di governo, ovvero di vero e proprio dipendente dello Stato e tra queste abbiamo ad esempio l'anagrafe, la gestione dell'anagrafe, dei registri di Stato civile e altri che vedremo di qui a poco. In primo luogo il sindaco una volta eletto va ad esporre al Consiglio Comunale le sue linee programmatiche quinquennali, ovvero quelle linee, quegli obiettivi che intende perseguire nel periodo di validità del suo mandato che è appunto di cinque anni. Queste linee dovranno in particolare essere presentate al Consiglio Comunale entro un certo termine temporale che è definito dallo statuto dell'ente e una volta approvate durante lo svolgimento del mandato del sindaco in generale le linee programmatiche non sono fisse e immodificabili ma potranno evolvere nel tempo anche in base ad esempio a quelle che sono le esigenze che di volta in volta si potranno verificare e appunto in questa evenienza il Consiglio Comunale potrà disporre un aggiornamento di queste linee programmatiche. Un'ulteriore serie di funzioni che vengono svolte dal sindaco poi sono prettamente di tipo amministrativo e queste funzioni in primo luogo vedono il potere da parte del sindaco di nominare una serie di soggetti. In primo luogo il sindaco avrà il potere di nominare gli assessori che andranno quindi a comporre la giunta comunale e inoltre potrà nominare anche un vice sindaco che appunto svolgerà le funzioni del sindaco ad esempio in caso di assenza o in caso di impedimento temporaneo. Il sindaco inoltre ha il potere di nomina e revoca di ulteriori soggetti ed in particolare del segretario comunale, del direttore generale, dei dirigenti, dei responsabili in generale degli uffici e potrà nominare i rappresentanti comunali. In particolare per quanto riguarda il segretario generale questa importante figura nel comune ma anche nella provincia è presente, ha il compito, il segretario comunale o provinciale ha il compito di collaborare e fornire una serie di assistenze giuridico e amministrative a tutti gli organi del comune per garantire appunto un funzionamento corretto dell'ente. E come detto appunto questa è un'analoga figura del segretario comunale presente anche nella provincia. Poi abbiamo nei grandi comuni la figura del direttore generale che appunto è istituita nei comuni con oltre 100.000 abitanti e tale figura di direttore generale ha il compito di attuare quelli che sono gli indirizzi e gli obiettivi degli organi di governo nonché sovrintendere alla gestione dell'ente anche garantendo che vi siano appunto degli alti livelli di qualità. Poi abbiamo invece i dirigenti ed i responsabili degli uffici che in generale saranno dei dipendenti pubblici che ricevono un incarico di dirigere un ufficio del comune e tali dirigenti quindi avranno il potere di adottare tutti gli atti e i provvedimenti che si rendono mano a mano necessari e nonché hanno il potere anche di impegnare finanziariamente il comune e quindi di disporre ad esempio che vi siano impiegate delle risorse, che vengano fatte delle spese per raggiungere ad esempio degli obiettivi. Ed infine i rappresentanti comunali, abbiamo i rappresentanti comunali che sono nominati dal sindaco e si intendono per rappresentanti comunali tutti quei soggetti che vanno a svolgere le loro funzioni a nome del comune, quindi la loro attività viene fatta appunto a nome del comune presso altri enti o altre aziende, istituzioni in generale che sono partecipate e quindi in qualche modo controllate in una certa misura da parte del comune. Abbiamo poi una serie di ulteriori funzioni amministrative che oltre alle nomine che abbiamo visto prima il sindaco ha il potere di convocare e presiedere sia la giunta che il consiglio comunale e inoltre ha il potere di sovrintendere a tutte quelle che sono le attività amministrative che si svolgono negli uffici del comune e in generale adotterà le ordinanze che è l'atto tipico dei sindaci, in particolare il sindaco adotta queste ordinanze, in particolare nei casi in cui vi siano delle urgenze e delle emergenze sanitarie o di igiene pubblica. Inoltre il sindaco potrà in questo campo andare a decidere quelli che sono gli orari dei pubblici uffici e degli esercizi commerciali e inoltre il sindaco nel caso in cui sia necessario garantire l'ordine pubblico e la quiete pubblica ad esempio potrà anche disporre che vengano vietate alcune attività commerciali per un periodo limitato di tempo e ad esempio può vietare la vendita di alcolici. Ulteriori funzioni del sindaco sono poi quelle sintetizzate nella seguente slide di funzioni svolte in qualità appunto di ufficiale di governo ovvero di dipendente dello Stato ed in particolare dipendente del Ministero dell'Interno. In questo caso il sindaco quindi abbiamo visto che emana le ordinanze in tema di sicurezza pubblica e nel fare questo collabora anche con la polizia giudiziaria, ha il potere di vigilare in generale quindi sulla sicurezza e sull'ordine pubblico e può collaborare oltre che con la polizia giudiziaria quindi con la polizia locale può avvalersi della polizia locale quindi della polizia municipale e anche della polizia di Stato. Inoltre gestisce i registri di Stato civile, di popolazione, i registri elettorali, i registri di leva militare e statistica. Inoltre può adottare quindi una serie di provvedimenti a garanzia dell'incolumità pubblica e segnala anche la presenza di eventuali stranieri irregolari nel territorio comunale. Per quanto riguarda gli orari degli esercizi commerciali quindi abbiamo visto che può modificarli in base a quelle che sono le esigenze per limitare che vi sia un inquinamento ambientale ad esempio e qualora vi sia inoltre una inerzia su quelle che sono le attività e le funzioni del sindaco e quindi qualora il sindaco non adempia ai suoi doveri, vi è un'ulteriore figura diciamo dipendente dello Stato che è il prefetto che ha il potere appunto di sostituirsi in caso di vi sia un'inerzia da parte del sindaco e in generale ha anche il potere ispettivo appunto su quella che è l'attività svolta dai sindaci. Inoltre qualora vi siano dei conflitti con i comuni vicini anche in questo caso il sindaco e il prefetto ha il potere di indire una conferenza e appunto per gestire queste situazioni di possibili conflitti che si possono avere tra comuni vicini e limitrofi.